Vediamo se riusciamo a buttarlo giù Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 24esimo episodio della crazy lock a pokemon nero Signori miei nello scorso episodio abbiamo sclerato ma tanto tipo sia nella palestra che nei pressi della fossa gigante E a proposito signori miei mi sono accorto che stavo sbagliando Infatti non si dovrà andare verso la fossa gigante ma a sud di grecalopoli dove ci sarà una grotta che in questo momento non ricordo come si chiami Nella quale avverranno cose che ci porteranno avanti nella trama Comunque signori miei prima di iniziare questo episodio oltre a lasciare un bel mi piace e un commento rispondendo alla domanda del giorno Vedrete la cattura di grecalopoli Quindi utilizziamo il surf spostiamo il cursore e direi di provare a fare questa cattura Signori miei nel frattempo vedete in sidebar togepi ho deciso di non mettere in squadra nessun altro membro e di mantenere il numero a 5 Perché voglio vedere che poco non riuscirò a ottenere in questo episodio sempre se si degnano di venire fuori Ok Tranquil No non sono tranquilli livello 31 fai schifo No ma tipo tanto in allenamento erano tutti al 40 poi arrivo io giustamente al 31 Dicevo ho deciso di mettere in squadra togepi signori miei e non uno tra porigone 2 e simiseige Perché allora porigone 2 e simiseige fanno schifo signori miei Voi non avete idea di quanto facciano pietà quei pokemon Mentre togepi io gli ho dato il condivido di esperienza speravo che si evolvesse Non si è evoluto vediamo il tipo di tranquille Roccia drago perfetto tanto questo tipo qua cambia signori miei appena si evolve quindi nulla Quando i tipi fanno devono cambiare fanno sono fantastici quando invece rimarranno per sempre fanno schifo No ma belle ste cose io qua utilizzo volo perché mi perdo sempre E nulla vedete appunto che togepi in squadra ma questo l'ho già detto Speravo che si evolvesse tramite felicità col condivido di esperienza non lo ha fatto io ci ho provato signori miei L'ho imbottito di carburanti di proteine E più di così non so cosa fare lo tengo Oddio il ruto tattico ci serve sempre Lo tengo in squadra col condivido di esperienza sperando che salendo un po' di livello si evolva E nulla allora direi che intanto ho visto che tranquilla un bello strumento che gli ciulo E bacca comero Evviva no davvero Allora tra l'altro signori miei in questo episodio sono un po' malaticcio perché è domenica Cioè è lunedì scusatemi Vedete come sono messo bene E nulla sabato sono uscito a festeggiare il mio compleanno con i miei amici E nulla mi sono preso penso dieci malattie diverse Adesso sono qui che non so assolutamente come Come registrare io ci provo signori miei Però probabilmente sentirete dei cali di voce allucinanti Nuova cattura Ti prego Dai Oh cristo Cioè Penso che in una nuzzlock Una delle cose più inutili sia proprio ditto Cioè ditto è l'emblema dell'inutilità in una nuzzlock Tipo normale buio Questo gli fai un pugno rapido e muore E ora il soprannome come glielo do Lo chiamo Un esperimento fallito Lo chiamo Fallimento lo chiamo Fallimento perché fai schifo Falli Mento Ma anche falli ascella Falli zigomo Falli bocca Insomma Falli creepy suicidati Falli Falli da dietro Non lo so Qualcuno mi dia un sedativo per piacere Non ha neanche repellenti suppongo Ti prego Ti prego Smentiscimi 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 Non mi stai smentendo Penso di avere una vita di merda Vabbè 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 Allora Togipi dovrebbe avere il condivido esperienza Perché non ha il condivido esperienza Ero convinto di averglielo dato Evidentemente creepy story Su alcuni problemi a livello psicofisico Soak C'ha una fottuta pietra E Cioè pietra Volevo dire oggetto Che poi si è rivelato una ferropalla Ma dettagli E Non lo so Metto davanti Boh Costanza Così mi ispira E affrontiamo questa simpatica allenatrice Perché si L'ho già detto Ma in questo episodio dovremo andare a sud Tra l'altro signori miei Questa parte qua potrebbe essere Cioè la parte che andremo La parte di gioco Diciamo Che andremo ad affrontare Sarà davvero lunghissima E non so se riusciremo a finirla In questo episodio E quindi nulla Può anche darsi Che dividerò In due spezzoni Quello che andremo A vedere quest'oggi Non spoilerò nulla Perché tra l'altro Ho scoperto che c'è gente Che sta scoprendo il gioco Grazie alla mia serie La cosa mi fa piacere E forse non è la più indicata Effettivamente Perché non faccio proprio tutto Però mi fa comunque piacere E nulla Quindi non spoiler Nel caso qualcuno Non abbia mai giocato A questi giochi O comunque non si ricordi È comunque una cosa Che abbiamo già visto All'interno di questo gioco In particolare L'abbiamo vista Ad Austropoli E nulla Direi di proseguire Tra l'altro Non ho i repellenti Quindi mannaggia a me Incontrerò 3000 pokemon E Tu saresti un allenatore Viva Forza Remoride Uh sì Sono sicuro al 100% Che sarà un remoride Guarda sì Sì proprio Esatto Abbiamo preso solo Un paio di ali E un paio di tipi Ma Dettagli Allora Psicotà Fango sberla No 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 La precisione cala No eh Ti prego Non cominciamo Perché qua Tra l'altro Salamence Rag è quel cancro Che nella scorsa Crazy lock Mi ha sciottato Zabdos con Geoforza Quindi Hashtag cancro No Fascino Non fascino Che poi mi costringe A usare per forcorno Signori miei Vorrei non sclerare Anche oggi Accendo la non sclero challenge Perché sono malato Dovrei cercare di risparmiare La voce per parlare E quindi E quindi ho anche il tè Ho anche il tè Perché c'ho la salivazione A mille Manco la diga del vaiont La diga del vaiont Perdeva meno acqua Psicotà No C'è la madre spazzina Sul serio Muori Vigor colpo La non sclero challenge È già andata a puttane Fra parentesi Ovviamente Vabbè adesso muori Cioè non è che hai molta scelta Quindi io Mentre mi godo la tua morte Mi faccio un bel sorso Di te Ovviamente Costanzo colpisce Quando non serve Axelgor Vabbè direi di tenere lui A sto punto Tanto Eccolo qua Il callo di voce Di cui vi parlavo prima E wow Ti ricordavo con un po' Meno difese Caro mio Psicotaglio Vediamo se riusciamo A buttarlo giù Ok Ovviamente Sorvolo Sul fatto che fosse un critical Mi sembra ovvio Ottimo È morto il pokemon Che aveva per forcorno A livello 100 Io non so come sopravviverò A questa serie Sul serio Ok C'ho proprio Una vita Di merda Signore Ma proprio schifosa È i confini Del porca Di quella troia Titanic Devi attaccare Ok Benissimo Benissimo Toghe più livello 54 Se si evolve Esplodo Oddio Non ci credo Non ci voglio credere Mi stai dicendo Che gli mancava Un livello C'è Non è possibile Signori miei Ti prego No 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 Raga Io non so più Cosa dire Io non so più Cosa dire Spinda Io questo qua Lo chiamo Rochett Signori miei Io questo qua Tipo veleno Vabbè Almeno Tipo te lo concedo Il Cristo Che statistiche Di merda Maga Cioè Non No 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 Non è possibile Non è possibile Io lo chiamo Rochett Signori miei Lo vedete già In sidebar Ma c'è un motivo Non è perché Luke lo sa Perché lo chiamo Rochett Perché lui trovava Gli spinda Gli spinda Nelle sue challenge E vabbè Signori miei La vita fa schifo Lo sapevamo un po' tutti Però Speriamo quantomeno Di fare una bella cattura Alla grotta Insomma Vorrei evitare Qualc'allenatore Poi sinceramente E magari Non trovare Mister Mega Evoluzione 2016 Se possibile Grazie Volevo evitarlo Gli ho parlato Si può essere Così problematici Non penso Qui lava E là invece Scotta Uccidetemi Che poi perché Scotta Potevo dire Sporca Che avrebbe fatto Più figo Oh Perfetto Trucidato Abbastanza velocemente Cioè Raga Vi rendete conto Che mi ha appena Dato uno spinda Ma Buongiorno Io Dubito di essere Arrivato a destinazione Ma la saluto Gentilmente Allora Tra l'altro Soak ha uno strumento Vediamo di cosa si tratta E Una fune di fuga Perfetto Anche Soak Mi sta dicendo Non farla Staserie Fuggi Ma perché La stai facendo E comunque Signori miei È ridicolo Che mi si sia evoluto Togepi Un livello dopo Quello a cui l'avevo portato Cioè Avevo perso le speranze Ho detto Eh raga Questo qua Non si vuole più E ovviamente La serie Decide di trollarmi Tra l'altro Penso che prima Io stessi dicendo Qualcos'altro E la cosa Mi ha distratto Totalmente Quindi probabilmente Quando rivedrò Il video in editing Comincerò Tipo a bestemmiare Perché mi sono dimenticato Di dire una data cosa Oppure magari Mi sto immaginando tutto E non bestemmerò Dipende comunque Questo qua Sta per morire E direi che è anche Una cosa buona È giusta Perfetto Quanti punti esperienza Allora Lì dovrebbe esserci Una pokeball Che io andrei a prendere Tanto Già capito Che sarà uno strumento Di merda Sicuro Che farà cagare Oh Però No Aspetta Gli avanzi sono ottimi Signori miei Va detto Gli avanzi sono ottimi E sono utilissimi Dubito di usarli Però si Sono utili Io campero qua Ok Perfetto Dai forza Siamo già a dieci minuti Io in teoria Avrei dovuto fare Quella cosa Shymin Shymin Ah ecco Cosa vi dovevo dire Ammazzo sto Shymin E poi ve lo dico Allora Segno raggio Non gli ho fatto nulla Perfetto Iniziamo davvero bene Ira di drago Vedi di morire Non Perché 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 Erba patto No Lo stronzo è di tipo metallo No Non è vero Non può essere di tipo metallo Perché il fuoco Era poco efficace Non è decisamente di tipo metallo Polneve Dai Dai che lo stiamo buttando giù Dai Soak Convinto Cattivo Ti voglio così Ma fanno leggemente Che tanto Cosa vuol dire Riordina le idee Ho appena letto Ho appena letto qualcosa Di cui non comprendo Il significato Veleno coda E Sì ma al posto di cosa No non te lo insegno Levati 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 Ippo Dai Ippopotas Spinda Ce la può fare L'esordio di Rochet Signori miei Mamma mia Non ci credo Allora Fuoco pugno Rochet Cosa ti sta succedendo Si chiamerà come il nostro rivale Signori miei Mamma mia Vi stavo dicendo Signori miei Che nello scorso episodio Ho detto più volte Abbiamo raggiunto Il numero di morti Della scorsa Crazylock Ok ci siamo arrivati Ma tipo Ah ok di là è l'uscita Che dobbiamo Ottimo Dicevo no appunto Nello scorso episodio Ho detto più volte Che avevamo raggiunto Il numero di morti Della scorsa Crazylock Beh non è vero Perché avevo considerato Solo le morti Prima della seconda parte Che erano 16 Mentre Arrivando alla fine della serie Sono diventate 18 Se non sbaglio E quindi nulla Forse ora come ora Siamo esattamente Alla pari Con la morte di Sono già dimenticato il nome Di Costanzo Forse ora siamo Effettivamente pari E quindi nulla Solo per dirvelo Se no poi mi prendete per uno Madonna questo qua Non sa neanche le tabelline Che schifo Mi disiscrivo No signori miei Mi ero solo dimenticato Ok allora Ora abbiamo il medico Che ci cura Ovviamente ci cura Anche il pokemon Che non potremmo utilizzare Quindi io provvedo subito Lo metto in fondo Ciao Costanzo Fallimento è il miglior nome Che io abbia mai dato Ad un pokemon Vi giuro Sto trattenendo le risate Ora vediamo che pokemon Cattureremo qua dentro Cercherò di evitare gli allenatori Non lo esplorerò Soprattutto sta grotta Perché altrimenti Non ce la famo più E dai vediamo un po' Che mi capita Per piacere Una gioia Una sola Cioè non si evolve Neanche Sto cosa Non si evolve Neanche Capi Cioè Adesso Non si evolve Ma è tipo Sarà fantastico Psico Si si può È già di tipo Psico Boh Io non Veramente Cancro Sei un cancro Devi morire Grazie Grazie Ora non puoi più farlo Il tuo sostituto Di me Sento le bestie Mio Non avete idea Avete mai Quella sensazione Che le corde vocali Ribollono Cioè Ribolliscono Forse si dice Non lo so Signori miei Sto andando in confusione Non so più parlare Neanche l'italiano Dio mio Uh Uno strumento Vai Attenzione È la terza Che trovo Non potevo Trovare lui Come selvatico Si evolve Tra un livello No ovviamente Ma raga È la terza Master Ball Che trovo Ma io Io non ci voglio Credere Ma perché Ma Vabbè Ok No 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 Non è qua Che devo andare No No Non voglio affrontare Voi stronzi Voglio andare Affanculo Affanculo Voglio andare Su un'isola deserta Senza Pig Knight No voglio andare Dall'altra parte Perché questa qua È la giunzione Fra tante virgolette Con spiralia Ma io Io Devo andare Da un'altra parte Proprio Cioè Aspettate Forse però Devo effettivamente Andare da quella parte Forse si raga Si 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 Allora Affrontiamo Vabbè Sta stronza Che vinca o che perda Non porto mai rancore E Vabbè Effettivamente Rancore Cioè È una MT Poco comune Diciamo Vabbè 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 Dai creepy stories Sta impazzendo Signori miei Continua a fare battute squalide De merda Allora Fuoco pugno Io non so assolutamente Il tuo tipo Uh bruciato Che culo Che culo Atroce Cuore stampo Cuore stampo Si però Non gli faccio nulla Ma fa niente Lui mi fa ancora di meno Quindi Si può fare Comunque il moveset Raga lo state vedendo Quindi Tranchi Ha imparato bagliore Che ha tipo pochissima precisione Però Vabbè Dettagli Ok Perfetto Bellossom 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 Fuoco pugno Porco 2 Gravo Minchia La bontà di questo spin Non è uguali Lo ritiro perché muore Ehm Vabbè Soak posso mandare Non è che posso mandare Qualcun altro Dai vediamo un po' Cosa riusciamo a fare Abbattimento No Stai fermo Non lo so Signoraggio Così Di arroganza Madonna Quanto regge sto coso Aia I ra di drago Quanto ti fa Ma mi sa poco E' abbastanza A Allora Fermi Per pozioni Ne ho Si perché le ho comprate Ho fatto spesa Signori miei E' assurdo Siamo a 17 minuti E non sono ancora Andato in quel posto Si Probabilmente Anzi No Che cazzo dico Sicuramente Sto però E questo mi critta Prima o poi Me lo sento Allora E' di tipo lotta Quindi su titanic Non dovrebbe avere effetto Finta E' di tipo lotta Perché sei efficace Sul tipo normale Oh perfetto Meno male che c'è Creepy stories E i suoi predict Surf Ehm Quando è che muori No sul serio Troppo forte Sai dove fallisci titanic Nella vita Sei un fallito Oh Grazie Madonna raga C'è vi rendete conto Ma si Si può Essere A queste condizioni Mi regali una baccacchi Wow No davvero C'è A Natale avevo chiesto Proprio quella Ehm Magdina Perfetto Raga Io però C'è Senza repellenti Non posso vivere Non so se mi spiego Allora Ti prego Metal Eh metal povere Sugli strumenti raga Non posso assolutamente Lamentarmi Perché In effetti Io dovrei scendere lì Ma non so come fare Dicevo In effetti In questa parte qua Di strumenti Diciamo che Mi è andata benino Visto che ho trovato Una master ball Ma Comunque Allora Io sto perdendo Lentamente La voce Sto facendo una fatica Boia A registrare sto coso Quindi se gentilmente Mi forniste La strada Dove devo andare Perché Io Sapete Ok forse L'ho trovata Allora Eh Basta Vi scongiuro Tutte trottole di merda La grotta delle trotto Nel sto episodio Lo chiamo così Non lo so No farò qualcosa Legato alla master ball Probabilmente Ok ce l'ho fatta Ragazzi Ora dovremmo essere Indirittura D'arrivo Oddio Coccia Signori miei Coccia Dalla soul link A pokemon Oro e argento A proposito A proposito Mentre vado al posto Ehm Super pozione Ho visto E quello Sono abbastanza convinto Che non fosse Un fluffy Ne sono Quasi certo Comunque Fuga Se ne va Perfetto L'altro ingegno Sei rotto Serviva solo a questo All'interno della trama E signori miei Il vascello Del team plasma E il tè Di creepy stories Eroget Che non è lo spinda Ah li hai trovati Sapevo di poter Contare su di te Eccola qua La nave del team plasma Ma da dove possiamo Passare Ehi aspettate What the fuck Chi è Oddio Ciprian Così dovresti essere A posto Come? Ma allora tu non hai Intenzione di affrontare Il team plasma Ascoltate ragazzi Io non ho motivo Di odiare il team plasma Forse staranno anche Facendo qualcosa di sbagliato Non lo so Ma non fa parte Del mio carattere Puntare il dito Contro qualcuno Soltanto perché la gente Dice in giro Che sono dei cattivi Quello che voglio È solo aiutare voi Perché vedo Che siete in difficoltà Perciò eccomi qui Grazie Signori miei Wow Non me la ricordavo Sta parte qua Questo insegnamento Di Ciprian Insomma Non pensare Una propria idea E soprattutto valutare Di persona le situazioni Prima diciamo Di agire Perché non si può mai sapere Poi A chi magari Dai del buono E che poi magari Invece si rivela cattivo Così nei giochi pokemon E nella vita In sostanza Penso Almeno dall'alto Della mia poca esperienza Potrei dire che Comunque non sempre È giusto fidarsi Delle persone Solo perché ti dicono Che sono buone Ho maggior ragione Di fidarsi di alcune persone Che invece ti dicono Guarda di qua Guarda di là Non ci si fida mai Troppo insomma Non ci si deve mai Fidare troppo A quello pensaci tu Non dovresti avere problemi Accidenti a voi Siete sicuramente In combutta Con quel tizio In costume da bagno Che ha passato La passarella La passarella Sì Siamo decisamente In combutta Col tizio Col costume da bagno Confermo Jigglypuff Jigglypuff contro Spinda Io non parlo Perché nello scorso episodio Sono stato ucciso Da uno shackle Però Cioè A regola Non Non parlo No Spinda Spinda Ok Perfetto Boostati No eh Psyda 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 Mi ricordo che nell'animo Mi faceva tutto così Sto pokemon Ehm Comunque signori miei Penso di battere questa recluta E poi stop Effettivamente Nel prossimo episodio Faremo tutta sta nave Mi dispiace solamente Che ci ho messo davvero così tanto Ma sinceramente Non pensavo appunto Che Quella parte richiedesse Così tanto tempo In effetti abbiamo fatto davvero poco In questo episodio Però piuttosto che portarvene Un altro da 30 minuti Che sapete che io non voglio mai farlo Anche perché so che Soprattutto in questo periodo La gente ha meno tempo Per vedere i video E quindi ve ne porterò Di più corti Almeno ci provo Accidenti il portello è aperto Quale portello? Aspettate cosa mi son perso Finalmente possiamo cercare A fondo la nave Cioè no Ho letto male sicuramente Dettagli All'Ibeciopoli Se la memoria non mi inganna Violante era uscito da lì Ok signori miei Detto ciò Signori miei Questa parte del gioco Sarà cruciale Io spero comunque Che questo video vi sia piaciuto Se così mi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace A commentare E a iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate i social Che trovate in descrizione E rispondete alla domanda del giorno Che troverete nella sidebar E noi ci becchiamo In un prossimo video